Prossime elezioni del sindaco di Isernia, due fatti nuovi della giornata. Il primo è la presa di distanza di Francesca Scarabbeo dalla vicenda della famosa cena tra Aldo Patriciello ed Ettore Rosato. La senologa impredicato per essere la candidata di un fronte unito tra Azione e Italia Viva, ha chiesto ai responsabili regionali del partito di Matteo Renzi un chiarimento. Qualora questi ultimi confermassero le affinità elettive con l'eurodeputato, la Scarabbeo scaricherà Italia Viva e andrà avanti da sola con il suo partito e la sua lista. Intanto sull'altro fronte, quello del centrodestra, c'è la presa di posizione di Stefano Testa, capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, che si fa avanti in nome dell'unione di tutte le forze moderate per combattere lo spopolamento e la crisi economica causata dalla pandemia. È di ieri la notizia diffusa da tutti i media locali dell'inesorabile spopolamento certificato dall'Istat che anche in questo 2021 sta falcidiando la nostra regione. È per questo che l'appello mio e di tutto il partito per le prossime comunali di Sernia, rivolto alle migliori forze politiche che si riconoscono nell'area di centrodestra, è quello di abbandonare il distinguo, di superare le divisioni ultime e di unirsi per sostenere un candidato sindaco che ponga al centro della propria agenda politica tematiche cruciali, quali appunto lo spopolamento, la crisi delle attività economiche produttive, il lavoro e che abbia un'attenzione particolare per le tematiche che riguardano la famiglia e per il sostegno al mondo della disabilità e alle persone più fragili.